Su di giri amici sportivi e bentornati a Chiedi al Bardo, l'unica videorubrica che risponde alle vostre domande sul wrestling. Oggi mi chiedete, quale lottatrice dal vivo è più bella rispetto a ciò che appare in tv? La domanda è molto molto complicata perché ormai sono stato un paio di volte in America, sia a Wrestlemania che al Raw successivo e ho visto quale lavoro c'è dietro alle ragazze. Un lavoro di trucco, parrucco, di cura degli abiti, dei costumi, delle riprese, mostruoso. Ci sono delle ragazze bravissime, che sono veramente geniali, sono all'avanguardia nel loro settore. fanno parrucchiera, truccatrice, ancora un po' fanno anche da estetista, hanno un sacco di aggeggi. E lo so perché prima di andare a sedermi al tavolo di commento a Wrestlemania, lì dal vivo o a Raw, devi passare per le loro mani. E una ragazza che vediamo combattere o fare le interviste o interagire in qualche modo, lì, in uno show da WWE, tra cappelli, messe in piega, cura del viso e quant'altro, può stargli anche 3-4 ore. Cioè, so che sembrerà pazzesco, ma è chiaro che la bellezza e la piacevolezza estetica, quando sei in televisione, soprattutto per una ragazza, o la società è così, è maschilista, è importante. E quindi queste ragazze, queste atlete, questi grandi wrestler, devono pensare anche, comunque, a tenere alta l'attenzione con il loro fascino. Poi una donna, dai, genericamente, spesso è un pochino, un pochino vanitosa, ci tiene a tenersi bene. E quindi è difficile dirvi chi dal vivo sembra più bella rispetto alla TV. Perché paradossalmente, a volte, è il contrario. La TV le migliora. Perché? Perché arrivano e sono stra-a-posto. Perché sono state inserite in questa macchina procedurale e quando compaiono sono al top, insomma. Meglio di così è difficile potersi presentare perché hanno dei truccatori, ve l'ho detto, delle ragazze che sono l'ira di Dio nel loro mestiere. Professionismo alle stelle. Non posso che parlarvene bene, insomma. Ce n'è solo una. Ce n'è solo una memoria che dal vivo era più bella rispetto a quanto è bella in televisione. So che vi stupirà. E c'è anche un'intervista in questo canale, un'intervista girata più o meno alle sei e mezza di mattina di un venerdì. Perché il Media Day iniziava alle cinque e mezza e noi giornalisti ci alzavamo a un quarto alle cinque di mattina. ora americana e anche gli atleti dovevano ovviamente alzarsi a quell'ora. E quella ragazza è Iva Marie. Iva Marie dal vivo, anche con pochissimo trucco, alle cinque e mezza di mattina. Oh, era più bella lì che in tv, non c'è niente da fare. Io ne ho viste di ragazze belle, Stacey Kibler, Candice Michelle, Kelly Kelly, per carità tutte affascinanti, Tori Wilson, tutte arrapanti, però in tv forse erano quasi meglio, comunque era lo stesso livello di bellezza. Se si può quantificare in un livello, perdonatemi la cosa un pochino detrattiva, no? In effetti le persone valgono a seconda di quello che fanno e di quello che sono, non di quello che appaiono. Oggi però parliamo di frivolezza estetica. Iva Marie invece era qualcosa di sublime, che andava oltre ad ogni aspettativa. In tv è bella, io non so adesso la sua avventura in WWE, se come proseguirà, visto che addosso si è tirata molto hate, visto che i fan del web l'hanno presa di mira, visto che nelle arene le cantano contro, a prescindere. Però è l'unica che dal vivo mi ha dato l'impressione di essere addirittura più bella rispetto a come la vediamo in tv, pur non avendo fatto quel procedimento di trucco e parrucco mostruoso che di solito le ragazze ovviamente desiderano e ne hanno necessità, insomma. Quindi ecco, l'unica ragazza che mi viene in mente è lei. Non credo ci siano altre aggiunte, le gemelle sono molto belle, ad esempio anche Stephanie McMahon o Alicia Fox o anche Rosa Mendex, ci ho parlato, insomma mi hanno fatto una bellissima impressione anche caratterialmente, addirittura Tamina, gentilissima. E voi non lo direste magari mai perché è in tv, insomma, fa un po' la selvaggia, fa un po' la tizia scatenata, Natalia anche lei. Però l'unica davvero, mi ripeto, più bella dal vivo che in tv è Iva Marima, proprio l'unica in assoluto, tra tutte quelle che ho visto e ne ho viste tante, Laila, Tristratus, Lita, le ho incontrate quasi tutte. E lei è l'unica che vi posso nominare. Ma non perché ci siano differenze mostruose, ve l'ho spiegato poco fa, e perché quando arrivi in tv sei bello fresco da quel giro di trucco e parrucco che è praticamente a livello hollywoodiano, cioè veramente. Voi non avete visto, ma avevano degli strumenti, ste ragazze, per, fantastici, metterti a posto le basette, tagliarti anche solo se avevi un pelo sull'orecchia, metterti a posto le sopracciglia. Qua Sky abbiamo, quando va in tv, anche noi, trucco e parrucco, e anche qui sono bravissimi. Però, mettiamo che se qua il loro voto in pagella è 8, che è alto, è uno standard elevatissimo, là è 10, cioè la differenza è questa. Cioè, parsi dall'elevatissimo al perfetto, là è proprio la perfezione. E quindi quando le vedi in tv più di così non puoi fare. Lì sono al top, al top, al top di quello che possono essere. E lì non ci si scappa. Va bene, dai, oggi abbiamo fatto un giro nelle terre di solito destinate al Godzilla. però ci sta anche parlare di bellezza femminile, di tanto in tanto. Di Tarroventi, se vi va qua sotto, aspetto i vostri commenti. Se il video vi è piaciuto, metteteci un like. Se volete aiutarmi a diffondere il canale, tanto a voi costa poco, costa niente, condividete il video sui vostri social. Ve ne sarò incredibilmente grato. Direi che abbiamo finito, e ci vediamo a breve, a prestissimo, sempre e solo qui con Chiedi al Bardo. Ciao!